La riflessione di oggi è dedicata alla strana necessità che non solo in Italia, però molto nel nostro paese, c'è di dover fare sempre due partiti su qualunque cosa, Guelfi e Ghibellini, Juventini e Anti-Juventini, Salviniani e Anti-Salviniani, o di qualunque altro partito politico contro quell'altro, qualunque fazione contro un'altra. Stavo dando così un'occhiata, per caso, alla pagina Facebook di Salvini, diversi suoi video, sì, ok, al di là delle cose che dice, ma poi mi diverto a dare uno sguardo ai commenti, è lì, ma stessa cosa, chi lo esalta e chi lo insulta. A parte che non capisco il senso di andare a commentare un video di qualcuno se non ti interessa o non sei dalla sua parte, cioè, eventualmente guardalo, fai le tue considerazioni, pensa di non essere d'accordo e sviluppa un'altra corrente di pensiero, la tua corrente di pensiero, ma così intervenire, così come nelle pagine anche calcistiche di Instagram o che, che ne so, quelle della Juve sotto c'hanno i commenti degli Anti-Juventini, quelle del Napoli c'hanno i commenti degli Juventini, ma cioè, che vi frega? Che vi frega di andare a commentare, a perdere tempo, energie, per qualcosa che alla fine, cioè, è sterile? Questi leoni da tastiera, queste battaglie virtuali, fatte da tanto seduti sulla sedia, secondo me non servono a nulla. Non so come la pensate voi, però sono curioso di saperlo.